Grazie. 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 Non volevo ripeterlo più se puoi, non si stare. la nostra solita vestria e il bianco lancia mollissimo non era quello là? pallonetto e vinta scherciata vanno in giro pallonettissimo ammazza se va in destra molto bene scherciata messo due mani alla giri con abbiamo una rete di colcetto gioco 1-0 1-0 per la scuola bianco 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 scusate se faccio le robe battute a scuola e morte non ne fate niente una è la prima ma è piccola figo gioco gioco si sedia Maldini pronto a dare il via alla sfida lasciamo con grande piacere il commento a Cristiano Maggioio che ha brillantemente animato questa fase una sfida bellissima Cristiano purtroppo non può essere in campo e lievemente infortunato ma ha voluto essere presente ed è un vero piacere averlo con noi e allora vi chiedo un grande applauso non solo per i contattenti in campo ma anche per Cristiano Maggioio a lui il microfono bianco bianco è un vero piacere Sì, 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 sì.